Il 2022 è l'anno europeo della gioventù, ma per ironia della sorte, proprio i giovani sono tra le vittime innocenti della guerra che si sta combattendo in Ucraina. Parte da questa considerazione la lettera che Roberta Mezzola, neopresidente del Parlamento europeo, ha inviato all'Università d'Annunzio per aprire i lavori del convegno sulle politiche sociali nell'Unione Europea, organizzato dal Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università d'Annunzio con il corso di laurea in servizio sociale e dallo Europe Direct di Chieti. «Sono ragazzi che hanno i vostri stessi sogni e le vostre stesse aspirazioni. I loro atti quotidiani di straordinario eroismo hanno mostrato al mondo che vale la pena reagire per difendere il nostro modo di vivere e i nostri valori», si legge nella lettera della Mezzola, che a nome del Parlamento europeo condanna con la massima fermezza l'aggressione militare russa contro l'Ucraina, esprimendo solidarietà a tutti coloro che soffrono. Sulla stessa linea di pensiero ho anche gli altri relatori del convegno dell'Ateneo d'Annunziano e dello Europe Direct. Tra i primi a prendere la parola in videocollegamento da Bruxelles è stato Antonio Tajani, presidente della Commissione per gli Affari Costituzionali del Parlamento europeo, per il quale la difesa dei valori ha un costo che in questo momento si aggiunge a quello dell'emergenza sanitaria da cui l'Europa stava tentando faticosamente di ripartire. «L'Europa deve avere più coraggio. Se rimarrà ferma ingessata, non riuscirà a tutelare i suoi cittadini e le sue imprese», ha detto Tajani. «Anche per questo è necessario cambiare le regole economiche europee e guardare a una revisione del patto di stabilità». Tra gli altri interventi è anche quello del professor Roberto Veraldi, organizzatore del convegno e presidente del corso di laurea in servizio sociale dell'Università d'Annunzio. «Alla luce degli eventi che potrebbero cambiare il welfare europeo, questo evento assume una dimensione completamente diversa e inaspettata. A mio parere il welfare state, così come l'abbiamo conosciuto noi, sarà completamente diverso». «Pensi soltanto alle politiche di immigrazione, di accoglienza. Pensi soltanto al fatto che, ad esempio, dalla fine del secondo conflitto mondiale ad oggi, la Germania non aveva mai aumentato le spese per gli armamenti, ora investe il 2% del PIL. Certo, c'è l'Unione Europea che spinge, perché poi si dovrà arrivare ad un esercito comune magari, ma forse si dovrebbe arrivare prima ad un welfare comune, invece noi sappiamo che ci sono vari tipi di welfare in Europa. Tutto questo viene rimescolato da questa terribile guerra che non sappiamo francamente come potrà incidere poi su tutte le altre politiche». Intanto l'Ateneo è pronto ad attivare dei corridoi umanitari con un fondo di 300.000 euro per accogliere gli universitari ucraini, come annunciato da Sergio Caputi, magnifico rettore dell'Università d'Annunzio. «Abbiamo creato un fondo di 300.000 euro proprio per aiutare questi ragazzi che ovviamente stanno in grandissima difficoltà».